Signor Peppino di Capo, si ricorda di quello? E come dimenticare? Gli angeli di scorta. Passare da un personaggio all'altro è la cosa più interessante di questo lavoro, chiamiamolo lavoro, perché più che un lavoro alla fine diventa un divertimento. E allora tu con una mano mi fai questo. La mia età, imparare un copione di un film intero, eccetera, non è da tutti i giorni. Comunque la cosa è riuscitissima, ci incontriamo spesso anche fuori dal set, combattute, eccetera. Questo mi tira molto su di morale, ovviamente. C'è il film che finisce. C'è la mattacolza. C'è la mattacolza.